Ciao a tutti ragazzi, sono Yume Shan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi avete letto il titolo qua sotto, torno a fare un video recensione. Questo video recensione mi è stato chiesto da Ju2000, che saluto, e mi ha chiesto se potevo recensirli Bleach. Bleach di Titekubo, che è un manga-shone di genere fantasy, azione, commedia, molto famoso come Naruto e One Piece, ed è una serie ancora in corso, del quale però sono usciti 67 volumi. E questa è la copertina. E questo viene al prezzo di 4,20€ edito dalla Planet Manga. I prezzi sono leggermente calati, cosa infatti strana rispetto agli altri tipi di manga che ho letto, perché i primi venivano su 4,50€, eccolo qui. Mentre questi 4,20€. Cosa che ho apprezzato tantissimo è la grande abilità che ha Titekubo nel passare da scene divertenti a scene serie, in modo quasi del tutto naturale. Ci sono diverse scene molto divertenti, altre più tristi, altre commoventi, quindi c'è un po' di tutto in questo manga. La storia ci parla di Chigo Kurosaki, un ragazzo di 15 anni che è lui, che ha l'abilità di vedere fantasmi. Un giorno lui e la sua famiglia vengono attaccati da uno spirito maligno chiamato Ollo. Trovandosi in serie in difficoltà, interviene in suo aiuto Ruki Akushiki, una Shinigami, che purtroppo però rimane gravemente ferita durante lo scontro. E allora lei ha un'idea, quella di trasferire parte dei suoi poteri ad Ichigo, nella speranza che lui riesca a sconfiggere Ollo. Ichigo consente, solo che durante il trasferimento qualcosa va storto, e Ichigo assorbe tutti i poteri di Ruki, diventando uno Shinigami in tutto e per tutto. E diciamo che da qui partono le sue avventure, che andando avanti con le saghe, vedremo che i poteri di Ichigo aumenteranno e lui cambierà, soprattutto cambieranno i disegni, vi faccio vedere. Questo è il numero 1, già dal numero 19 vedrete come cambiano i disegni, anche nell'anime. I disegni sono qualcosa di veramente splendido. E come vedete il vestito è cambiato. E lui ha scoperto un nuovo potere, un potere che l'ha reso veramente potente, e che grazie a questo riuscirà a sconfiggere diversi avversari. E mi hanno colpito di più, soprattutto per quanto riguarda anche la storia, molto intrigante e veramente ben realizzata, sono la Soul Society e quella delle Arancar. Nella Soul Society, che diciamo che è una tra le mie preferite, vediamo Ichigo alle prese con un avversario molto temibile, veramente forte, e che l'aveva già dato del filo da torcere nei volumi precedenti. Se proprio all'uso e all'abilità di questo nuovo potere, riuscirà a tenerli testa. Una serie che vi dicevo che mi ha colpito tantissimo è quella degli Arancar. Mi ha colpito tanto le scene di combattimento, ma anche le trasformazioni che hanno ogni Arancar, diverse trasformazioni. E ci sono in questa saga tre personaggi che mi hanno colpito particolarmente, che sono questi qua, che sono Ulchiorra, Neliel e Grimjo. Mi hanno colpito tantissimo sia il loro passato che le loro abilità nell'usare la spada, e vi faccio vedere, per esempio, una trasformazione di Neliel, che è questa ragazza qui, che è Gamusa, cavaliere antilope. E lei si trasforma in questa maniera. Vedete, è veramente ben realizzato, e poi soprattutto ha una grande fantasia questo mangaka. E vi faccio vedere la spada. Eccola qui. Quindi, in conclusione, non posso fare altro che straconsigliarvi la lettura di Bleach. La storia all'inizio sarà molto lenta, per poi andarsi a sviluppare, a diventare sempre più veloce, e sempre più interessante. E anche i disegni cambieranno. Vi fate vedere quei disegni lì, erano veramente splendidi. Diciamo che questo era Ishigo all'inizio, questo è il volume numero uno. E lo vediamo già nel volume 19, che è completamente diverso. E lo vediamo qua. Completamente diverso, come vedete i disegni sono ancora, sono veramente ben dettagliati. Adolsantissimo questa scena. Concludere, vi volevo dire, se volete vederli, di Bleach hanno fatto anche quattro film e hanno fatto un artbook e due line novel. Allora, la prima line novel è chiamata Cronache dell'aldilà, mentre la seconda è Una dolce rapsodia. L'artbook è molto bello, ci sono diverse scene di Titekubo, veramente stupende le più belle, diciamo, scene che si trovano in Bleach. Mentre i film sono quattro. Il primo è Memories of Nobody, che è incentrato sull'attività di alcuni Shinigami esiliati dalla Soul Society, che cercano di distruggere il mondo degli spiriti e dei vivi. Molto bello. L'altro è Bleach, The Diamond Dust Rebellion, e qui vediamo il capitano della decima divisione, Itsugaya Toshiro, che ha le prese nel tentativo di recuperare un artefatto appartenente al re della Soul Society. Mentre il terzo, invece, si chiama Free to Black. In questa storia i membri della Soul Society sono colpiti da amnesia, che li fa perdere la memoria e ricordi connessi a Rukia e Ishigo. Il film, scusate per la pronuncia, è Jokuen, è che è il quarto e ultimo film, che mi ha colpito tantissimo perché qui vediamo il potere massimo di Shigo. Shigo, diciamo, che viene messo a dura prova in questo film, che tra l'altro è reso veramente bene grazie anche al Sandrax. I Sandrax che nei momenti di combattimento danno tantissima adrenalina, un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo dell'anime Bleach. Vi volevo consigliare anche gli opening. Anche gli opening sono veramente molto belli e il mio preferito, diciamo, che è il secondo, che riguarda, diciamo, la Soul Society. Bene, detto questo, spero che questo breve video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi avete mai letto Bleach e cosa ne pensate con un commento qua sotto. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao!